Vediamo adesso i file in .jar .jar è l'estensione che principalmente sta per java e possono essere aperti anche con winrar quindi apri file con winrar e essenzialmente possiamo vedere tutto il metodo detect è un altro infatti i file in .jar a differenza dei file in .exe non logano nel pref per questo tools come last activity view o winpref tv non ci verranno molto utili anche se vedremo dopo per cosa effettivamente usere ad ogni modo un file in .jar si può startare con double click e abbiamo qua il nostro file a questo punto i file in .jar loggano in una cartella chiamata %temp% all'interno di questa cartella vedremo tutte le chiusure e aperture dei file che sono avvenute nel sistema anche se in qualche formato strano quello che noi vogliamo cercare è il file in .dll chiamato ginnati book se noi vediamo un file in .dll così con una stringa composta da numeri e lettere è abbannabile perché vuol dire che è proprio indice di un clicker a questo punto un utente cosa può fare un utente state clicker fa tutto poi shift cancella ginnati book quindi nel posto di fare tasto destro e elimina puoi sbottare il cestino fa shift cance e rimuovi magico a questo punto se lo staffer andrà a controllare ovviamente farà %temp% non troverai più ginnati book per questo possiamo controllare su process hacker il nostro processo preferito l'explorer e qua andremo ovviamente a filtrare per ginnati book come vedete adesso se ne allarghiamo un po' possiamo vedere le stringhe che prima erano state eliminate c'è però un altro metodo è un po' più un metodo bypass però c'è anche un altro metodo per saltare i file in .jar possiamo aprire il nostro cmd che per chi non lo sapesse è il terminale di tv windows essenzialmente dove andremo ad operare e fare cose tipo start program eccetera eccetera mega hacker il metodo in questo si chiama java.jar essenzialmente il metodo consiste nel fare java.jar directory del clicker per esempio posso incollarlo così oppure posso digitarla directory ogni modo si start boom essenzialmente quello che succede è che il computer non rileva la nostra apertura del file o meglio rileverà il fatto che un processo di sistema ha aperto un altro processo questa cosa possiamo verificarla tramite winprefg.view quello che ho appena detto può riassumersi in il processo intanto andiamo a dare subito un modify time mi raccomando importantissimo il processo cmd ha aperto il processo conhost che ha aperto il processo java e ok a questo punto riordinando l'index potremo vedere che poco più giù verso 18 comunque nelle prime 20 varrà 30 troviamo il nostro file che è stato appunto startato dal java.java che è stato startato dal conosco che è l'appiglio di cmd che prende i file e in questo caso abbiamo subito visto il clicker possiamo verificare se la directory c'è se il file manca eccetera eccetera e questo inserimenterà come trovare il metodo java.jar vediamo adesso i file in .dll i file in .dll sono un po' più un si direbbe pindess perchè appunto non possono essere startati con doppio click ci sono due metodi principalmente per stantarli che sono simili in realtà uno si chiama metodo regswr32 parola mega super hackerosa per dire un semplice comando cmg chiamato regswr32 directory tac eccolo qua l'altro metodo invece si chiama randll32 basta andare su winprefetchview e controllare il conhost allora principalmente quello che succede in questo momento è cmd da un input al conhost il conhost esegue a questo punto quello per cui noi dobbiamo andare a cercare è regswr32 in questo modo possiamo riordinare l'index scorrere un pochettino e vedere che attorno alla posizione 50 in giù ci sarà il file sospetto in questo caso i fattori principali possono essere una insessione spuffata quindi un file che non c'entra niente con questa cosa qua una data di modifica troppo strana rispetto al resto e ovviamente la directory ovviamente l'utente può andare a mettere la directory da qualunque parte adesso vediamo meglio come detectare queste null i file dll sono un pochino complessi per questo anche in questo caso ci viene incontro la fantastica regedit ho qua salvate due directory che ci possono tornare super utili uno l'abbiamo già vista opensave.mru questa parte qua possiamo andare a vedere i file dll che sono stati installati dall'utente e questa cosa è super utile perché tu non vai a installare i file dll a caso giusto? in questo modo possiamo vedere che qua per esempio è stato installato un client cosa di strano ok? ok vedi nulla il gioco è bannabile la seconda directory mount advice sempre per controllare il mount wall il mount wall che cos'è? da cmd noi possiamo eseguire il comando mount wall per vedere i punti di ancoraggio del computer allora immaginate una chiavetta usb o qualsiasi altro disco partizione è visualizzato come un codice lungo in questo momento ci sono due codici che sono aperti quindi due directory quasi invisibili all'interno del sistema che sono aperte se io prendo la directory la copio e la incollo con uno strato davanti vedete che mi apre questa cartella questa cartella è accessibile solo e solamente tramite questo e quindi bene controllare che qua dentro non ci sia assolutamente niente che sia pulita perché un utente può mettere un clicker, costarlo, chiudere e poi a quel punto ciao essenzialmente quindi si è importantissimo controllare questo vi faccio vedere velocemente come detectare l'eliminazione di un cestino vedete il cestino è pieno in questo momento andiamo su windows r c2.slash al contrario $recycle.bin andiamo a dare ok ovviamente dobbiamo spuntare i file nascosti tramite visualizza opzioni maggiori andiamo a spuntare visualizzazione e togliamo la spunta da questa cosa qua nascondi fra il plattativo del sistema e sempre visualizza elementi nascosti e vedremo questa cosa qua questa data qua ultima modifica è l'ultima volta in cosvoto del cestino quindi un'oretta fa se l'eliminazione del cestino è prima del controllo o poco prima comunque è banabile yes abbiamo infine questi ultimi due file in .pi e in .bat ho ottenuto questi file semplicemente perché non in realtà non hanno un vero metodo di detect infatti non non lo hanno per questo dovete un po' ingegnarvi potete andare per esempio su everything che è un tool proprio classico e una cosa che si può fare è cercare per esempio .pi e vedrete nel computer tutti i file che hanno come estensione .pi a questo punto potete per esempio selezionare tutto con un ctrl a tacete e fare sort by e dare non lo so potete vedere chiaramente gli ultimi file che sono stati eseguiti così come per i .bat bene quindi questo era uno dei primi tutorial teorici che farò per i controlli per cercare di aiutarvi per lo meno per quello che so lo so non ho mai fatto questo tipo di video credo di avervi dato le basi proprio minime non sono un grande screenshot quindi si i controlli li so fare ma non come li farebbe un professionista cerco di aiutarvi con quello che posso ecco ragazzi spero vi avete apprezzato noi ci vediamo con un prossimo video con un passato ciao ragazzi